I microRNA Dunque, adesso vi racconterò come abbiamo fatto a identificare alcuni microRNA che sono in grado di far rigenerare il cuore. Il concetto è molto semplice. Abbiamo preso le cellule del cuore, i cardiomiociti, e le abbiamo seminate in una piastra come questa, che è fatta di un centinaio di pozzetti. E poi in ogni pozzetto abbiamo inserito un microRNA e siamo andati a vedere in quali pozzetti i cardiomiociti crescevano di più. Chiaramente per riuscire a scrinare tutti i 2000 microRNA del genoma umano di piastre non abbiamo usato una, ma circa 200. E quindi non l'abbiamo fatto a mano, bensì abbiamo sfruttato un sistema robotizzato che in maniera automatica ha dispensato cellule e reagenti nei vari pozzetti, ha acquisito delle immagini, le ha elaborate e ha calcolato il numero di cardiomiociti che si stavano replicando all'interno di ogni pozzetto. Questo sistema si chiama High Throughput Screening, screening ad alta processività, perché consente di processare migliaia di composti alla volta. E così ne abbiamo identificati 40 di microRNA che sono in grado di stimolare la proliferazione delle cellule di cuore di top e di ratto. Abbiamo anche dimostrato che alcuni di questi sono molto potenti nel far rigenerare il cuore in vivo dopo un infarto in un topolino. A questo punto la questione fondamentale è cercare di capire quali tra questi 40 microRNA funzionano altrettanto bene nel cuore umano e in quello del maiale. Perché, seppur poco piacevole, un punto fondamentale per arrivare all'uomo è quello di validare una nuova terapia in un modello di un grosso animale, come il maiale, che ha il cuore simile a quello umano. Capite bene che avere a disposizione cellule di un cuore umano o di maiale per fare questi esperimenti non è facilissimo. Però ci viene in aiuto un trucchetto dell'ingegneria genetica. Chi ha valso il premio Nobel per la medicina lo scorso anno ha un signore che si chiama Shinya Yamanaka. E questo signore giapponese, questo ricercatore, ha scoperto che se io prendo una cellula della mia pelle e ci trasferisco dentro una manciata di geni selezionati riesco a riprogrammarla e a farla diventare una cellula simile alle cellule staminali dell'embrione che poi possono essere indotte a differenziarsi in ogni tipo cellulare. Queste cellule riprogrammate si chiamano IPS, cellule staminali pluripotente indotte. e noi lo stiamo usando per derivare cardiomiociti di uomo e di maiale su cui testare i nostri microRNA. Così cercare di capire quali hanno le maggiori chance di funzionare anche sull'uomo e su cui puntare per tentare di sviluppare questi RNA in una formulazione farmaceutica cioè in una fialetta, in una compressa da poter offrire ai pazienti che hanno bisogno di rigenerare una parte del loro cuore. Grazie.